Francesco Moschini, prima di tutto di nuovo dell'ospitalità dell'Accademia Nazionale di San Luca, perché è vero oramai un dialogo si è creato costruttivo e continuo. Ciò che hai appena sottolineato, questo dialogo tra discipline e aprire sempre di più confronti e dialoghi, si iscrive perfettamente nell'approccio di Ulrich Fisterer e di me per queste manifestazioni che si sviluppano all'intorno del tema guardare e si tratta, l'hai già indicato, della terza edizione di questo argomento, argomento appoggiato su una cooperazione tra tre paesi, per il momento sono tre, quindi la Germania, la Francia e l'Italia. Il primo incontro ebbe luogo a Monaco in Baviera, ho ancora trovato il programma di questa prima edizione in novembre del 2014 e ha aperto e voleva aprire un ampio orizzonte cronologico che andava dalla liturgia medievale fino ai nostri giorni, tenendo conto anche di strumenti ottici, anche la fotografia, e anche misurazioni della percezione in musei di oggi che permettano di distinguere il modo in cui visitatori provenienti da diverse culture e civilizzazioni vedono ciò che vedono, ciò che non vedono e con quale ritmo scoprono e vedono le cose. E abbiamo anche parlato di viaggiatori che scoprono una città, un posto, secondo delle modalità che cambiano molto, di nuovo ciò che si vede, è altro fenomeno, altrettanto interessante ciò che non si vede, che non si deve vedere, dipende spesso da testi letti per preparare una visita oppure un valet che accompagna i visitatori secondo un percorso efficace, spesso appoggiato infatti su un discorso teorico. È chiaro che il modo di vedere, di percepire, dipende della cultura, dello stato d'animo che chi vede e anche di concetti religiosi e politici. Per la seconda edizione, eccola, di nuovo il programma, chi è interessato, lo facciamo girare, la seconda ha avuto luogo a Parigi, al centro allemand d'Histoire-là, in dicembre dell'anno scorso e abbiamo scelto l'argomento della forma ideale, sempre secondo un largo orizzonte cronologico dal Rinascimento all'Ottocento, focalizzando lo sguardo sulla pittura, architettura, collezionismo delle scuole e anche la storiografia. In questa sede abbiamo anche favorito il dialogo con la linguistica, grazie alla collaborazione di Claudine Moulin, professore all'Università di Treveri, che purtroppo non poteva partecipare quest'anno a causa di un problema di salute. Abbiamo potuto osservare tanti fenomeni simili tra il campo della linguistica e il campo della storia dell'arte e un topos che tornava sempre durante la discussione era Zeusi. Come rappresentare Elena, la donna la più bella del mondo? Il pittore procede secondo un concetto preciso, studiare il corpo delle fanciulle più attraenti della città di Crotone, individuare la parte la più bella, la più riuscita del corpo femminile e poi fissarlo tramite un disegno per poi ricomporre il corpo ideale. Non so se il risultato era davvero soddisfacente. Sicuramente ci vuole un dibattito tra un concetto ideale e la licenza delle libertà anche legate a tradizioni locali oppure l'ispirazione dell'artista. Così i nostri lavori hanno analizzato anche gli stacchi che si profilano tra un ideale, un riflettimento scritto o un'immagine. Raffaello, partendo da un concetto estetico, scopre poi la forma ideale tramite la donna che ama, quindi amore, come esperienza durante la ricerca della bellezza. Il trattato fondato su tentativi di ricostruzione secondo testi di Vitruvio cambiano secondo l'occhio, chi vede e chi delinea. Ciò che era serio, e parlo dei Cariatidi, parlo degli Atlanti, ad esempio, discreti da Vitruvio, se si vedono le interpretazioni intrattati dell'Europa settentrionale, ad esempio, ciò che era serio diventa ridicolo, cinico, lascivo, sproporzionato e addirittura spaventoso. Lo sguardo profondamente contrassegnato dalla tradizione del gotico tardivo dei paesi settentrionali si scontra con la tradizione classica. È un ruolo fondamentale, e riassumo sempre molto rapidamente, ciò che è stato indagato a Parigi, un ruolo fondamentale, hanno anche le scienze naturali che favoriscono l'idea di una composizione razionale, ideale, con un'organizzazione stabile di componenti. La terza edizione, Ulrich Wüster ed io abbiamo deciso di tornare nella nostra parrocchia. Il rinascimento, la forma ideale, la bellezza, durante il 400 e il 500, che in realtà è oggi un argomento poco popolare. E anche su questo, forse, durante questi lavori dobbiamo un pochino chiederci perché il nostro tempo è diventato poco sensibile rispetto alla bellezza. In ogni caso, i nostri temi riguardano concetti da Leon Battista Alberti che sostiene che il rapporto armonioso nella musica dovrebbe anche produrre armonia nell'ambito dell'arte edilizia fino a delle idee di Michel de Montaigne, purtroppo il nostro collega Jean Balsamot doveva rinunciare sul viaggio a Roma per il nostro convegno per il quale la forma ideale ebbe un ruolo fondamentale e sono felice che in questo convegno potremo confrontare quindi concetti di Alberti, di Machiavelli, di Marzillo Ficino che rivedranno il modo in cui l'idea della bellezza è stata interpretata nell'arte edilizia, nella poesia e nella politica appoggiandosi, suppongo, su concetti simili. Vedere gli edifici secondo una lettera come quella di Raffaello a Valdasar Castiglione e sviluppare uno sguardo ideale per l'architettura c'è un rapporto tra queste due cose, sono curiosa. La costruzione virtuale dello spazio è Euclide come riferimento fondamentale per definire uno spazio misurabile, controllabile, che assegna un posto fisso ad ogni oggetto tenendo conto della distanza o del ravvicinamento dell'occhio umano, con quale sguardo si vedono collezioni secondo un concetto culturale o scientifico predisposto oppure della cappella secondo un progetto, un programma liturgico che guida lo sguardo e fuori dell'Italia, in paesi settentrionali, in quale tradizione lo sguardo è ancorato provocando una visione con valori semantici molto diversi. Ma finalmente non si tratta solo dello sguardo dell'artista, ma di quello di un comitente, di un ordine religioso e anche di una strategia politica. allo stesso tempo il Rinascimento ha sviluppato una riflessione sulle modalità ottiche della percezione come guardare, come guardare meglio le distanze rispetto all'opera, la luce, girare intorno, apprezzare delle sfumature, muoversi da un lato all'altro, scoprire di nuovo, chiudere gli occhi, strumenti ottici per capire meglio certi elementi e basta di guardare l'architettura del Rinascimento per capire fino a che punto l'arte di guardare diventa un tema essenziale, aspetti prospettici, scenografie, percorsi gerarchici, anche l'illusione. Nel programma di questo convegno apparisce anche il problema, la parola problematico. Sia, sì, una forma ideale deve per forza suscitare un dibattito e addirittura creare anche la ricerca di altri concetti estetici e delle volte addirittura un rifiuto di ciò che è presentato come l'ideale. Si tratta di un riferimento al quale gli artisti cercano di ravvicinarsi, di conciliarlo con la traduzione e la loro sensibilità. È anche vero che certi concetti estetici che sono legati alla filosofia e la teologia non raggiungono o raggiungono solo lentamente progressivamente le botteghe degli artisti per diventare un riferimento della loro creazione. e proprio in questo processo di ravvicinamento e anche di rifiuto risiede l'interesse del nostro tema. Delle volte tradizioni locali o motivazioni personali si scontrano con il concetto ideale. Delle volte il rifiuto di tale ideale di bellezza alimenta l'immaginazione artistica e tutto sommato la dialettica tra ideale e libertà artistica crea la vera sostanza vitale della creazione artistica. Vi ringrazio e do la parola al mio collega Ulrich Fister. Grazie. Grazie.